Nessi e connessi, oggi in questo convegno a Francavilla si parla dell'utilizzo del web da parte dei ragazzi e di un utilizzo del web nella maniera migliore, professoressa Spedicato. Beh, indubbiamente l'utilizzo di queste nuove tecnologie ha bisogno anche di competenze precise e ciò che questo convegno ha messo in evidenza è che appunto bisogna essere cauti nell'uso, non farsi travolgere dall'uso stesso e soprattutto di essere dotti nell'uso di questi strumenti che possono presentare dei vantaggi ma possono anche offrire delle situazioni che possono produrre disagi. Innanzitutto si asfuefano molto a questo tipo di strumenti per cui perdono anche il rapporto, rischiano di perdere il rapporto con la realtà, rischiano di leggere la realtà attraverso delle rappresentazioni e dunque è importante invece che ci si riappropri della propria soggettività, della propria individualità perché in realtà si pensa di essere connessi col mondo, in realtà poi si è disconnessi dal quotidiano e allora in fondo forse dobbiamo riappropriarci proprio della nostra quotidianità perché siamo fatti di carne, di corpo, di sangue, di sguardi e abbiamo bisogno di recuperare proprio questo. È importante usare con misura questi strumenti, è importante anche che la scuola renda edotti, informi i ragazzi, però è pur vero che deve esserci anche una presenza adulta che governi l'azione dei più giovani.